La commemorazione dei defunti è stata l'occasione per il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, in visita stamane a Cartecchio e nei cimiteri frazionali, per conoscere lo stato dell'arte dei lavori di manutenzione eseguiti dalla TEM nelle strutture. È consuetudine fare questo giro, è consuetudine ed è una caratteristica di scontrare gli ultimi anni che troviamo i cimiteri in ordine. Insomma, anche quest'anno cimiteri frazionali puliti, ordinati, con alcuni problemi da risolvere, che sono problemi, se vogliamo, anche un po' vecchi, riguarda alcune piccole chiese che sono all'interno dei cimiteri, alcuni ingressi che vanno sistemati. Però in linea generale sono soddisfatto, sono soddisfatto perché, ripeto, da un po' di tempo che comunque, anche dietro una spinta dell'amministrazione, la TEM lavora bene sui cimiteri. Anche quest'anno è confermato questo dato, quindi abbiamo girato quasi tutti i cimiteri, nel pomeriggio termineremo alcuni che non siamo riusciti a fare questa mattina, però insomma c'è soddisfazione. A partecipare al consueto appuntamento con il tour nei cimiteri, come ogni anno, il primo novembre, anche il nuovo presidente della Teramo Ambiente, Giovanni Mattucci. Cosa ha riscontrato? Devo dire che termino questo tour molto soddisfatto. Per me è la prima volta, ovviamente, che faccio un giro di questo genere ed è stato anche utile per conoscere alcune realtà cimiteriali che non conoscevo, non conoscevo, non sapevo neanche fossero presenti, devo essere sincero. Ho trovato dei cimiteri di frazione raccolti, puliti, ordinati, come giusto che sia, soprattutto in questi giorni, ma mi viene detto che non è solamente una situazione di questi giorni, proprio la tenuta media di queste realtà è veramente buona. C'è qualcosina da fare, come sempre, anche perché la manutenzione straordinaria va comunque periodicamente attuata, soprattutto nelle strutture più vecchie. Ho preso anche qualche appunto, che riferirò ai responsabili, in modo tale che compatibilmente anche con le esigenze e con le disponibilità metteremo mano a quel poco, devo dire a quel poco che c'è da fare. C'è poi una novità importante, esiste un piano regolatore cimiteriale al quale dovremo dar seguito nei tempi futuri, che permetterà ampliamenti e permetterà di conseguenza anche manutenzioni importanti in tutti i vari cimiteri. Quindi, sotto questo punto di vista, devo dire che la cittadinanza deve stare, come dire, tranquilla per il futuro. Mettiamola così, va.